Munizioni per armi da fuoco portatili. Quali sono gli standard di riferimento? Viaggio all'interno dei sistemi CIP e SAMI. Amici di Armi e Tiro, vogliamo approfondire con voi in questa circostanza un tema spesso disconosciuto da molti degli appassionati ma fondamentale per quello che riguarda sia la sicurezza sia proprio l'utilizzabilità delle armi. Quando si parla di armi da fuoco è abbastanza evidente che il binomio inscindibile è formato tra l'arma e la sua rispettiva munizione. Munizione che nella maggior parte dei casi ha un calibro definito, specifico, standard, come può essere il 38 Special piuttosto che il 7x64 piuttosto che quello che volete voi. I calibri oggi disponibili in commercio sono centinaia se non migliaia alle quali possono poi in particolare affiancarsi in determinati momenti storici determinati calibri che rimangono strettamente sperimentali. Ma che cos'è che rende standard un calibro e cosa significa quando un calibro è diventato standard? Questo ci porta innanzitutto a approfondire quella che è una differenza sostanziale tra il sistema statunitense e il sistema omologato europeo, che in realtà poi è vigente anche in altri paesi che non fanno parte dell'Europa, che fa capo, parliamo del sistema europeo, a quella che è la Commissione Internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili o chip. Si tratta di un organismo che ha sede a Liegi che fissa quelli che sono gli standard per i calibri e per le rispettive quote delle camere di cartuccia e delle anime delle canne delle armi destinate a spararle. Quindi possiamo già dire una cosa fondamentale. Esiste un organismo, ormai da molti anni, centralizzato al quale i produttori devono rivolgersi per omologare un nuovo calibro. Quindi viene inviato a questo istituto un rapporto tecnico che comprende sia quelle che devono essere le quote dimensionali massime della cartuccia, sia le quote dimensionali minime della camera di cartuccia e le quote tipiche di quelle che sarà il diametro di foratura della canna, lo spessore delle rigature, il passo di rigatura, eccetera, eccetera. Questo per garantire sostanzialmente che vi sia sempre la perfetta intercambiabilità tra tutte le cartucce di quel calibro che siano prodotte da un qualsiasi produttore, il quale ovviamente se vuole commercializzare le sue cartucce in uno dei paesi che aderiscono al sistema CIP deve rispettare quelle che sono le tabelle previste e omologate dalla CIP. Qui ne vediamo un esempio in uno dei libri che è stato edito dalla CIP alcuni anni fa, anche se oggi molto più comodamente è possibile reperire queste informazioni sul sito internet della associazione internazionale che è chip-bobp.org. Come potete vedere c'è un disegno al quale fanno riferimento le quote per quello che riguarda la cartuccia e per quello che riguarda la camera di cartuccia. Non è solo un problema di dimensioni, c'è anche ovviamente un problema di pressioni, visto che stiamo parlando di munizioni e quindi di oggetti che hanno a che vedere con la combustione. Il sistema CIP prevede tre distinti livelli di pressione, cioè la cosiddetta pressione media-massima, tale per cui quando si fa il test della munizione e si prova un certo numero di cartucce, la media delle pressioni di questa cartuccia non deve superare un certo livello. Questo livello si chiama PT max o pressione media-massima. Questa è la pressione diciamo di esercizio della cartuccia che può essere, non lo so, 2300 bar per esempio per il 9x19 o per il 9x21, si può arrivare anche fino a 5000 bar a seconda del calibro, per esempio calibri molto esasperati per carabina possono arrivare anche fino a 5000 bar. C'è poi una pressione superiore rispetto a quella media-massima che è la pressione di picco o PK. Questa pressione di picco è la pressione che nessuno dei colpi che vengono sparati in canna manometrica per testare l'otto delle cartucce deve superare in nessun caso. Normalmente è più elevata rispetto alla pressione media-massima del 15%. C'è poi un'ulteriore pressione ancora più alta che è quella che viene utilizzata dalle cariche forzate che vengono utilizzate dai banchi di prova che aderiscono al sistema della CIP per testare le armi che saranno poi destinate a utilizzare quel calibro. Quindi sostanzialmente il produttore manda al banco di prova l'arma, gli viene sparata dentro una sventola che ha una pressione superiore del 30% rispetto alla media-massima o PE, pressione de-proof, e deve essere in grado di resistere ovviamente senza alcun tipo di danno o di deformazione permanente. In questo modo il banco, dopo aver testato queste cartucce, punzona l'arma con degli specifici marchi e questo dà la certezza che all'interno di tutti i paesi che aderiscono a questo sistema l'arma è in grado di sparare queste munizioni. Allo stesso modo il produttore delle cartucce deve sottoporre ogni lotto di munizioni a una prova in canna manometrica al banco, superata la quale è verificato che i livelli di pressione sono quelli prescritti, le dimensioni sono quelle prescritte, il lotto viene omologato. Questo garantisce sostanzialmente che ci sia la possibilità di avere armi e munizioni che combaciano sempre perfettamente, anche perché c'è un elemento fondamentale che caratterizza questo sistema, cioè il sistema CIP, che a essere sorveglianti diciamo di questo sistema sono i banchi di prova. In Italia ce n'è uno a Gardone-Valtrompia con un paio di sezioni staccate, ce ne sono più di uno per esempio in paesi come la Germania, che ne ha più di uno, ma sono presenti anche in Francia, in Repubblica Ceca, eccetera, ci sono diversi paesi che aderiscono alla CIP. Il discorso è che la presentazione delle armi e delle munizioni al banco di prova non è un consiglio, è qualcosa di obbligatorio. Allo stesso modo il rispetto di questo tipo di indicazioni tecniche non è una indicazione meramente diciamo volontaria, bensì obbligatoria di legge. Il sistema vigente negli Stati Uniti è un pochino diverso e si basa anch'esso su uno standard che è quello stabilito dal SAMI, cioè Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute, il quale anch'esso ha delle tabelle nelle quali sono previste sia le dimensioni delle cartucce, sia le dimensioni delle camere di scoppio, sia anche i livelli pressori. Ci sono tuttavia diverse differenze sostanziali. La prima differenza sostanziale è che il SAMI è un sistema che viene accettato volontariamente dai produttori, ma non fa capo a un banco di prova. Quindi non c'è in realtà un vero obbligo di legge per quello che riguarda l'omologazione delle armi e l'omologazione delle cartucce. Quindi sulle armi che vengono prodotte negli Stati Uniti non ci sono dei punzoni di prova apposti da un organismo terzo che si occupa di verificare la rispondenza dell'arma e delle munizioni a precisi criteri. Un'altra delle differenze sostanziali è che, per esempio, negli Stati Uniti il sistema SAMI prevede che ci sia la possibilità che uno stesso calibro possa avere due livelli pressori diversi, uno standard e uno più alto dello standard, che è il cosiddetto munizionamento più P, quindi overpressure sostanzialmente. È il caso, per esempio, del 9x19 che esiste come 9 mm e 9 mm più P, il 45 ACP che esiste come 45 ACP e 45 ACP più P e così via. È chiaro che non tutte le armi che sono destinate a sparare il 9x19 sono idonee a sparare il 9x19 più P, ma attiene normalmente al produttore dell'arma indicare sul libretto di istruzioni se la sua arma è in grado di utilizzare il munizionamento più P oppure no, fermo restando che tutti i produttori scrivono ovviamente che una dieta continuata di munizionamento più P accelererà l'usura dell'arma. Con il sistema chip, per esempio, questo non è possibile. Non è possibile avere uno stesso calibro che ha le stesse dimensioni e ha due livelli pressori differenti. Il calibro, nel momento in cui si chiama in un certo modo e ha delle differenze sostanziali, non è possibile avere lo stesso calibro con due livelli pressori o anche due dimensioni differenti. Per esempio, uno dei casi classici è il 7,62x54R, il calibro del Mosin-Nagant, del Dragunov, di tantissime armi russe. Per esempio, il calibro in questione ha un diametro del proiettile di 311 millesimi di pollice. Esiste però una variante sviluppata in Finlandia che ha un diametro del proiettile di 308 millesimi di pollice. Anche questo calibro è omologato chip, ma è omologato come un calibro differente che si chiama 7,62x53R. La differenza tra 53 e 54 non risiede nel millimetro in più o in meno di lunghezza del bossolo, ma risiede proprio nel fatto che un calibro è omologato con un proiettile di un diametro e l'altro di un altro diametro. Un'altra cosa sostanziale che bisogna approfondire e che è importantissima è quella di capire se un calibro che viene prodotto secondo le norme SAMI sia uguale a un calibro prodotto secondo le norme CIP. Il fatto che abbiano lo stesso nome sembrerebbe suggerire di sì. Per esempio, il calibro 38 Special viene prodotto sia negli Stati Uniti dai produttori americani secondo le norme SAMI, sia dai produttori europei secondo le norme CIP. Nella maggior parte dei casi le dimensioni sono del tutto paragonabili. Ci sono però delle piccolissime a volte differenze che se non comportano un rischio immediato per quello che riguarda la salvaguardia dell'arma e di conseguenza del tiratore, possono comportare malfunzionamenti, inceppamenti e irregolarità di funzionamento. Parliamo a volte di piccolissime dimensioni, differenze dimensionali che ci possono essere tra uno standard e l'altro. Per esempio, nello spessore del fondello, cioè della parte di fondello che deve essere agganciata dall'estrattore, nei calibri rimless. Un altro caso emblematico per esempio è quello del 765 Parabellum, che negli Stati Uniti si chiama 30 Luger. Secondo le norme SAMI, la lunghezza della parte cilindrica del bossolo prima della spalla, perché il calibro ha un collo di bottiglia, è più lunga di 3 decimi di millimetro rispetto alle norme CIP. Questo significa che a volte quando si va a ricaricare un bossolo che viene sparato in un'arma e si prova a camerarlo in un'altra arma, ci possono essere delle incomplete chiusure. Sono casi tutto sommato limite, ma si possono anche verificare. Questo che cosa significa? Significa che a volte può succedere che la perfetta regolarità di funzionamento si possa verificare in un'arma, per esempio, di produzione statunitense, utilizzando in essa munizioni di produzione statunitense e si può ottenere lo stesso risultato in un'arma europea utilizzando munizioni europee. Un'altra delle situazioni molto importanti è quella relativa alla omogeneità, o meglio disomogeneità, nella misura delle pressioni tra i due sistemi, SAMI e CIP. È chiaro che è differente l'unità di misura, per esempio nel sistema SAMI, che è sul sistema anglosassone o imperiale, si utilizza un'unità di misura che è il pound per square inch, quindi libra per pollice quadrato. Nel sistema CIP si utilizzano i bar. Si può notare però, per esempio, che passando dal sistema SAMI, cioè convertendo le pound per square inch in bar, non si ottiene lo stesso livello pressorio che si ottiene con le munizioni al sistema CIP. Da qui c'è stato nel tempo un lungo interrogarsi, diciamo, da parte degli appassionati sul fatto che un sistema sia più potente dell'altro, che le armi prodotte secondo un sistema siano più resistenti rispetto all'altro. In realtà una delle cose che molto spesso non si conoscono, non ci si fa caso, è che non è soltanto l'unità di misura di un sistema a renderlo paragonabile a un altro sistema e molto spesso non basta semplicemente convertire l'unità di misura. Molto spesso la differenza è anche come viene effettuata una misura. E qui c'è una differenza sostanziale. Per esempio, in una canna manometrica a norma SAMI, nella maggior parte dei casi c'è un trasduttore piezoelettrico che va a sondare, diciamo, quella che è la deformazione e quindi la pressione al centro del bossolo, ma senza che il bossolo venga forato. Quindi il bossolo è integralmente integro, strutturalmente integro. Nel sistema a norma CIP, invece, la canna manometrica presenta il trasduttore piezoelettrico che va ad analizzare la pressione che si sviluppa all'interno del bossolo attraverso un foro che viene realizzato nella parete del bossolo, immediatamente prima di inserire la cartuccia nella canna manometrica. Appare quindi evidente che a fronte di questa differenza sostanziale nel modo di concepire il sistema di misura, esistono delle differenze di rilevamento della pressione e quindi i valori di pressione non sono uguali. Non appaiono uguali perché è diverso il sistema di misura, ma non necessariamente sono diversi. Questo sistema è ancora più emblematica, questo problema, con i calibri cosiddetti a norma NATO, quindi per esempio il 5,56 NATO e il 7,62 NATO rispetto alle loro controparti 308 Winchester e 223 Remington. Nelle canne manometriche a norma NATO si utilizza ancora un sistema diverso che prevede la rilevazione tramite i sensori appena più avanti rispetto alla bocca del bossolo e non al centro del bossolo, il che dà una misura ancora differente rispetto ai sistemi SAMI e CIP. Ma questo non significa affatto, come taluni hanno voluto far credere per molti anni, che le munizioni a norma NATO siano meno potenti e lavorino a pressioni più basse rispetto alle loro controparti commerciali. Con questa disamina essenziale, ma già piuttosto complessa e articolata, confidiamo di avervi spiegato quella che è la ragion d'essere, diciamo, della standardizzazione delle cartucce. È chiaro che la materia è estremamente complessa e non può essere esaurita in pochi minuti. Questa è semplicemente la base dalla quale partire per una comprensione di quello che è il fenomeno dell'arma da fuoco e soprattutto della sua munizione.